I contratti di fiume I contratti di lago promossi dalla Regione Piemonte costituiscono un metodo di lavoro per la gestione negoziata e partecipata delle risorse idriche alla scala di bacino idrografico. Sono una modalità di gestione del corso d'acqua del lago a cui si aderisce volontariamente, attraverso i quali integrare e coordinare gli strumenti di pianificazione e programmazione e gli interessi presenti sul territorio. Il contratto di fiume e di lago ha l'obiettivo di perseguire la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, in particolare la riduzione dell'inquinamento delle acque, la riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici, l'uso sostenibile delle risorse idriche, il riequilibrio del bilancio idrico, la condivisione delle informazioni e la diffusione della cultura dell'acqua, coniugando queste azioni con la salvaguardia dal rischio idraulico. In Piemonte sono già stati avviati alcuni contratti di fiume e di lago, tra cui quelli del bacino del torrente Sangone, del torrente Stura di Lanzo, del torrente Belbo, del torrente Orba, del torrente Agogna, dei laghi di Avigliana e del lago di Viverone. Gli obiettivi che ha il contratto di lago sono tanti, qualcuno è stato realizzato, per esempio, in primo luogo il controllo degli scarichi reflui, che ha portato ad una ristrutturazione corposa, o meglio, al quasi completo rifacimento del collettore del lago di Viverone, perché a distanza di quasi 30 anni, diciamo, ovviamente è obsoleto, presenta numerose carenze e quindi è stato in lotti diversi, via via, rivisto. Precedentemente al contratto di lago c'era già un'intenzione tra parte dei comuni e delle province limitrofe al lago di promuovere e tutelare il lago, sfociato poi in questo contratto di lago vero e proprio. Quello che è stato fatto è, grazie al contratto di lago, sono state fatte delle azioni di salvaguardia già del lago, perché la prima cosa che è stata fatta con il contratto di lago è stata una ricerca sull'eutrofizzazione, cioè sulla mancanza di ossigeno delle acque del lago, che hanno portato a un controllo degli scarichi fognari, che erano quelli imputabili, gli imputati principali di questo problema di eutrofizzazione. E in effetti sono già stati segnati due lotti di lavori che hanno portato un benessere magari non visivo e non immediato sul lago, però che porterà sicuramente dei risultati sul lungo periodo. Tutte le iniziative che vengono proposte e poi promosse vengono viste attraverso la cabina di regia del contratto di lago, che può dare un supporto, può dare delle opinioni, può dare delle risposte positive o negative. E poi l'insieme di queste cose è soprattutto il riuscire, attraverso anche gli enti un pochino più importanti come la città metropolitana e la ragione, vedere di arrivare ad ottenere qualche fondo per promuovere l'attività del lago e tutte quelle che sono le opere necessarie per farlo vivere meglio, in tutti i sensi. Il contratto di lago è una concertazione tra diversi mondi, quindi si può salvaguardare sia le culture, ma anche il territorio e il nostro lago. Noi come agricoltori abbiamo accettato qualche limitazione di concimazione, in compenso le amministrazioni hanno fatto sì che le zone tampone non ricadessero sugli terreni agricoli condotti da privati, ma bensì dalle amministrazioni. Le fasce tampone sono esclusivamente le alberature, le piantumazioni che vengono fatte anziché con il classico pioppo come qui si usa diciamo in cultura, vengono fatte piantumando dei boschi, diciamo dei boschi autoctoni e quindi con l'utilizzo di essenze autoctone si va a piantumare intorno al lago in maniera che il sistema radicale, diciamo le radici di questi alberi riescano a trattenere un pochino le impurità che potrebbero essere quelle del dilavamento diciamo delle sostanze concimanti dei terreni che vengono adibiti a seminativo. Si è preso al meglio cosa diceva la direttiva Nitrati, cosa imponeva Natura 2000 e quindi praticamente ci è stato spiegato che le buone pratiche agricole e le gestioni dei boschi è giusto farle e meglio farle e se ben spiegate non sono del tutto impattanti. Questo contratto di lago è stato anche ripreso da un ente svedese proprio per la tipologia di contratto di promozione e tutto che è stato fatto è stato portato in comunità europea ed è stato anche ripreso da un ente svedese per promuovere sul territorio l'oro. Non bisogna dimenticare però che comunque se si vuole promuovere il territorio bisogna anche fare in modo che il territorio sia fruibile e quindi cercare di accontentare un po' tutti, un po' le utenze che vogliono vivere la natura e quindi magari puntare sui percorsi naturalistici dei quali devo dire qualcosa, per i quali è stato fatto qualcosa. Dalla parte diciamo della nostra sponda per esempio il comune ha ottenuto finanziamenti per creare una sorta di villaggio palafitticolo non è anche tanto villaggio ma comunque alcune palafitte, una torretta di avvistamento per gli uccelli siccome questa zona di lago è veramente molto frequentata dalla fauna migratoria negli spostamenti fra il nord e il sud d'Europa quindi ci sono varietà molto molto belle di uccelli. Per controparte la sponda più commerciale ma nemmeno commerciale più turistica del lago che è quella di Viveroni giustamente deve anche vivere di proventi anche per poter permettere agli stessi proprietari di bar, di alberghi e di riuscire ad accontentare la clientela ma riuscire anche a sopravviere diciamo così. Spero che questa concertazione continui, che le cose non siano imposte ma bensì mediate perché se si media si può raggiungere sempre un maggior equilibrio e una maggior gestione del territorio. Forse è necessario per dare ai nostri figli o ai nostri nipoti un territorio più verde, più sano di quello che potevamo aver trovato prima. Non dico che abbiamo trovato un deserto e noi creiamo un paradiso terrestre. Diciamo che con l'evoluzione di situazione di tutto noi dobbiamo cercare di mantenere comunque il più possibile quest'area verde, questo lago nel più sano e più vivo possibile. Grazie a tutti.